allora van e se una donna ci cerca dopo settimane di suo silenzio essere reattivi cioè rispondere quasi subito ai suoi messaggi e accettare senza esitazione un suo invito ad uscire presumo sia sbagliato si è sbagliato van ma è anche sbagliato come ho già detto proprio all'inizio di questo video essere sostenuti fare i sostenuti fare i passivo aggressivi perché poi dimostrate di aver notato la sua assenza questo è fondamentale capire se voi dimostrata una donna che avete notato che lei è sparita infatti come mi stai dimostrando adesso che dici ci cerca dopo due settimane vuol dire che tu hai contato le due settimane tantissimi ragazzi in consulenza mi dicono guarda io non la sento da dieci giorni è pazzesco se voi se loro le vostre donne sapessero che voi contate i giorni altro che farsi risentire è la cosa meno attraente del mondo un uomo che sta lì a contare i giorni perché perché il focus dov'è è su di loro e una donna non vuole mai stare con un uomo che ha il focus su di lei lei ha già lei non veramente ragazzi toglietevi dalla testa la puttanata che ci sia uno scambio punto numero uno non ci può essere uno scambio perché voi stessi non volete lo scambio cioè scusami voi stessi non state facendo una cosa per avere questo scambio di io ti do amore illimitato voi date amore per ottenere qualcosa voi date amore solitamente perché volete amore volete sesso volete qualcosa in cambio ok le donne invece non fanno così le donne ragionano al contrario se vi danno qualcosa ve lo danno in modo autentico ok una donna da amore in modo autentico non da amore per avere qualcosa in cambio ma se nella vostra testa avete questa idea che se vi da qualcosa come il topic di oggi cioè sto messaggiando nella vostra testa voi pensate sicuramente vorrà qualcosa in cambio sicuramente lo sta facendo per un motivo non lo sta facendo per un motivo lo sta semplicemente facendo perché ancora emotivamente attaccata ok ancora prova ancora un'emozione e questo la fa comportare in questo modo non c'è un modo un motivo razionale dietro che non lo sta facendo per un motivo di più